Commercianti al dettaglio e all'ingrosso sotto la lente dei finanzieri del Comando Provinciale di Bari che, bolle d'accompagnamento delle merci alla mano, stanno verificando l'eventuale aumento ingiustificato dei prezzi. L'ondata di maltempo ha infatti congelato molti prodotti ma non i loro prezzi, visto che molti cittadini hanno notato l'immediato aumento. Per questo i militari del Comando Provinciale di Bari, della Guardia di Finanza d'Intesa con la Prefettura hanno avviato un piano di intervento operativo di contrasto al carovita per verificare che i comportamenti dei commercianti fossero corretti. Frutta e verdura in particolare sembrano aver subito i rincari più significanti anche a seguito della mancata consegna di merci per via del maltempo. Rafforzando la presenza dei finanzieri come Polizia Economico-Finanziaria si vuole dare un chiaro segnale agli operatori economici. se hanno intenzione di elevare in maniera spropositata e ingiustificata i prezzi approfittando del periodo di criticità dovuto alle abbondanti nevicate dovranno fare i conti con le fiamme gialle.